Bandi per le periferie, fondi per le periferie delle nostre città. Ieri c'è stata questa spedizione a Roma alla Camera, Sindaco Alessandrini, non è andata proprio benissimo, ma voi siete determinati ad andare avanti in questa battaglia? Il grido di Anci si è levato forte e unanime, nel senso che sindaci di differenti espressioni geografiche, di differenze idee politiche, sono uniti nel chiedere con forza che questo congelamento venga scongiurato. Abbiamo illustrato le ragioni del perché questo è indispensabile per la vita delle comunità, per la rigenerazione urbana che deve partire dalle periferie, ma non a chiacchiere con i fatti, e quelli sono fatti concreti che vengono inspiegabilmente congelati. Abbiamo anche ricordato come noi abbiamo sottoscritto delle convenzioni in fascia tricolore con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, queste convenzioni sono state registrate presso la Corte dei Conti, queste convenzioni hanno determinato l'avvio di lavori, di progettualità di soldi che sono stati spesi e che esistono, della contabilità pubblica. Per tutta questa serie di ragioni e non ultima quella di recuperare una trama di fiducia con i cittadini, perché se tu poi devi andare a spiegare che è stato congelato, insomma funziona poco, c'è bisogno di una risposta immediata ai bisogni delle periferie e noi faremo tutto quello che è necessario come sistema, ripeto, complessivo dei comuni, abruzzesi e italiani per scongiurare questo scippo istituzionale vero e proprio. Chiederete un incontro con il Presidente del Consiglio Conte? Noi faremo tutto quello che è necessario a tutti i livelli istituzionali di mobilitazione e anche di protesta, proprio qui a Pescara nel pomeriggio, come è avvenuto già in tante altre città italiane, incontreremo le associazioni con le quali peraltro siamo da tempo in contatto. Ricordo che il bando delle periferie è strutturato in modo tale da immaginare forme di partenariato pubblico-privato, onde fare massa critica e fare pressione affinché si possa tornare indietro su questo provvedimento poco felice.